Da quanto tempo avete attivato questo servizio di noleggio di mountain bike e biciclette? Soltanto da quest'anno. Negli anni passati numerosi turisti ci hanno chiesto di attivare appunto il servizio di noleggio però per un problema oppure per un altro abbiamo sempre rimandato. Quest'anno siamo riusciti, il servizio sta funzionando direi bene, nonostante il tempo non ci metta certo nelle condizioni favorevoli purtroppo qualche turista ha dovuto riportarci immediatamente la bicicletta per una pioggia improvvisa però per il resto c'è interesse e di conseguenza penso proprio che lo continueremo nei prossimi anni visto la risposta sicuramente positiva e interessante. Queste biciclette sono messe a disposizione a dei prezzi sicuramente agevolati? Secondo noi sì, sono dei prezzi accessibili e inoltre ai possessori della Welcome Card di Rovetta noi offriamo l'opportunità di noleggiare a prezzi ancora più bassi quindi sicuramente non è il costo delle bici quello che può fermare il turista. Al massimo ripeto, le piste ciclabili ora ci sono, certo ci vuole un po' di allenamento le biciclette ci sono, le bici sono state messe a disposizione della Proloco di Rovetta dal cicli pellegrini di Clusone e di conseguenza tutto positivo per ora, staremo a vedere. Anche altre Proloco hanno attivato lo stesso servizio? Sicuramente anche la Proloco di Clusone, sempre grazie alla collaborazione di cicli pellegrini e anche per questo probabilmente si sta ora diffondendo perché la cosa è fattibile il servizio è semplice direi, tutto sommato iniziative di questo genere sono sicuramente positive e non richiedono nemmeno troppa fatica dal punto di vista organizzativo. Si può ad esempio prendere una bici a Clusone e lasciare la rovetta o viceversa? Questo era l'obiettivo nostro, non ci siamo riusciti quest'anno, resterà comunque uno dei prossimi obiettivi cercheremo di farlo per l'anno prossimo in modo che il turista possa partire da Rovetta e poi lasciare la bici in uno dei punti di raccolta di Clusone o viceversa. E con lei da dove viene? Da Lodi E ha affittato una bicicletta qui presso la Proloco di Rovetta? Ne abbiamo affittate due, una alla Proloco di Rovetta e una alla Proloco di Clusone per averne due col seggiolino. Ecco, che percorso ha fatto? Noi abbiamo fatto la ciclabile che collega Clusone fino a Bergamo abbiamo fatto una dozzina di chilometri scendendo e ovviamente altrettanti salendo. Come trova questo servizio di noleggio? Lo trovo molto bello, con dei costi accettabilissimi e entrambe le Proloco sono state molto gentili nei nostri confronti.